Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Vlogmas! Il video di oggi è un video un po' più particolare perché andremo a tingerci i capelli insieme. Ho visto che vi piace quando vi porto con me e quindi ho deciso di farlo anche questa volta in versione Vlogmas, in realtà non cambierà molto. Quello che rende particolare questo video è che questa volta il colore di capelli non l'ho scelto io, ma l'ha scelto mia madre. Ciao mamma, scusa, so che odi quando ti chiamo madre. Praticamente lei odia questo giallo, non lo sopporta più, continuava costantemente di chiedermi di toglierlo o di cambiarlo insomma. E allora io l'ho detto, va bene sai cosa, visto che è a te che non piace, scegli tu il nuovo colore che ci metto sopra. Le avevo dato una sezione di colori tra cui scegliere, poi vi metto le clip perché ho anche filmato. A un certo punto però lei fa una proposta un po' shock. C'è una notizia shock! E infatti non colorerò solo il giallo ma colorerò tutti i capelli. Nel video non c'è la parte in cui decidiamo che quella proposta shock si avvererà, perché è stata una scelta fatta i giorni dopo perché dovevamo capire un po' se c'era un metodo un po' meno invasivo eccetera per farlo. Infatti oggi proverò anche una cosa nuova che è un color remover. Non li ho mai provati e quindi vedremo insieme come andrà. E nulla, ora sono le dieci e mezza di mattina e noi vado a fare colazione e poi ci vediamo nel bagno dove di solito ci vediamo quando faccio questo tipo di video. Quindi a dopo! Bene, ora è tempo di far scegliere il nuovo colore a mia madre. Tra i tre, con quello che hai in testa, mi piace questo. Quindi tu voti questo. Sicuramente ti farei anche tutta così. Tutta così? Mi piacerebbe. Magari ci pensiamo un'altra volta, tutta così. È bello. Quindi tu voti questo. Anche se ti faci tutta blu, eh? Tutta blu? Mi piacerebbe. L'hai detto? Sì. Oddio, adesso è una scelta difficile. Ok, eccomi. Allora, i miei capelli ora sono così. Il viola è praticamente quasi sfumato in rosino, mentre il giallo è ancora bello pesante. Io cosa uso oggi? Uso questo qui. Ho scelto questo perché era l'unico che ho trovato a portata di mano e ho preso quello per le castane, in teoria. Visto che appunto io sono scura. E dentro troviamo, questa è la parte finale. Vabbè, a parte un paio di guanti che sono sempre graditi perché se vi seguite sapete che io me li dimentico, quasi sempre. Abbiamo, se c'è scritto in italiano, beh, crema, rivelatore in crema, che è il passaggio numero due. Poi abbiamo una polvere decolorante. E una crema decolorante. Ho scelto questo in realtà perché dice che è una decolorazione ad olio per una schienitura completa e dice, in teoria, che non ha, vedi, senza ammoniaca. Quindi, in teoria, è diversa dalla normale deco che comunque ho perché dubito fortemente di riuscire a togliere uno strato grande perché, come sapete, ho un sacco di colori sotto, quindi non so neanche bene cosa uscirà. Però sotto il viola ho avuto solo il rosso e basta in realtà, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi, quindi nulla. Io non li mischio qui dentro perché sono in difficoltà. Uso la ciotolina, mischio e poi ci vediamo quando applico il tutto. Ok, ho pettinato i capelli, infatti, come vedete, sono orribili e vedete anche che il colore fa un po' pietà. Questo è il risultato, spero mi basti perché io ho un sacco di capelli alla faccia di tutti quelli che mi hanno detto che li avrei persi facendomi tutte queste tinte. Ora tocco ferro, però ne ho fin troppi, li odio tantissimi e quindi nulla. Ora iniziamo, chiaramente vi velocizzo il processo, ma partirò dalle punte e salirò e penso lascerò un po' qui. che farò alla fine. Slash solo con la deco perché tanto questi diventano biondissimi subito. Andiamo. I guanti. Eccoci qua. Come sempre. Che speziosi questi guanti. Però mi tiro su un po' le maniche. Carini, non li avevo mai visti di questo materiale. Bene, diciamo addio al viola che mi è stato amico fedele per un sacco di tempo. PS, non sono una parrucchiera, non sono un'esperta, non seguite i miei consigli, andate da quelli bravi. Bene, ho finito di applicarlo. Spoiler, non mi è bastato per le radici, ma vabbè, tanto dovrò decolorare per forza. Quindi faremo così. E ora 25 minuti e poi lo sciacquo. Faccio forse anche 30, eh. Perché vediamo, vediamo. A dopo. PS, ho detto una cavolata. Sono 45 minuti di posa totali. Perché sono 25 punte più altri 25, 15 radici. Quindi in tutto dicono di non superare il tempo massimo di 45 minuti. Ok, ho appena sciacquato i capelli e li ho lavati solo con lo shampoo. Non ho messo quello anti-giallo. C'era anche questo, non lo ho mostrato. Dentro c'era anche un trattamento anti-giallo. Che penso però userò alla fine di tutto, anche se ho lo shampoo anti-giallo. E nulla. Ora vediamo il risultato. Vi dico già che ha un po' macchie. Ma perché non mi bastava. Quindi sopra, adesso ve lo mostro. Sopra sono ancora praticamente viola. Vabbè, a parte le radici che le ho saltate. Comunque in realtà molto più chiari di come me li aspettassi, se ero onesta. E non ho neanche perso molti capelli. Ovviamente più chiari dove avevo il giallo perché... E perché ero già decolorata sotto. Ora li asciugo. Pranzo. E dopo pranzo faccio la deco. Ovviamente perché, come vedete qui, Cioè, sono viola. Perché appunto non mi bastava. Mi farò chiaramente aiutare da qualcuno. Ok, eccomi tornata. Ora deco pronta. Ho diviso i ciuffi che erano gialli perché, come avete visto, erano molto più biondi. E quindi ora passerò tutto qui quanto... E le radici le faccio alla fine. Andiamo perché sennò poi ho anche una lezione, quindi devo correre. Riappaio in versione uovo. Mi scuso se sono scomparsa, ma dopo la deco ho fatto cose e ora ho su lo shampoo antigiallo da tipo un'ora. E ora vado a sciacquarmi e noi ci rivediamo domattina quando farò tutto il resto. Buongiornissime amici, io e i miei capelli terribili. Vi diamo il buongiorno. Sono arrivati entrambi i colori. In teoria questo è più scuro e questo è un po' più chiaro. Ne ho presi due perché ho problemi di misurazioni. Come avete potuto vedere ieri, visto che le mie radici sono rimaste escluse dal gioco. I capelli che vedete azzurri sono quelli che erano gialli perché ovviamente erano venuti platino. Comunque vi introduco i due colori così poi procedo. Questo più chiaro è della Manic Panic e si chiama After Midnight. Mentre questo è della Stargazer e si chiama Blue Black. Quindi questo lo metterò sulle radici fino a non lo so, più o meno qui credo. E poi il resto sul resto dei capelli. Magari faccio qualche ciuffo con questo, non lo so. Chiameremo questo metodo un po' al cavolo, un po' a caso. Nella tinta della Stargazer mi hanno anche piazzato i guanti che sapete è sempre apprezzabile. Mi metto i guanti e iniziamo. Ok, allora io me lo butterò con questo e poi penso di usare il pennellino. E quindi iniziamo, non si torna più indietro. Ottimo. Sono molto spaventata, ve lo ammetto, perché non sono mai stata blu. E ho un'estrema paura di diventare verde. Ok, ho finito di mettere il colore. Ho finito entrambi i tubetti fino all'ultimo goccio. E ora vedo di darmi una ripulita. Nel dubbio ho mandato mio fratello a prendere un altro tubetto. Io credo che mi rimbara la faccia blu per sempre, perché qui ho già lavato e non se ne sta andando. Vabbè, ho mandato mio fratello a prendere un altro tubetto, perché magari sciacquo e ci sono dei buchi. Lo ripasso dopo la doccia, insomma. Tipo maschera colorata e nulla. Ora sto così almeno un'ora, forse anche di più, perché voglio che prenda bene. E ci vediamo dopo. Buongiorno. Finalmente vi mostro il colore finito. Oggi è domenica e io ho fatto il colore venerdì. Ma vi mostro solo oggi, perché ieri ho ripassato un attimo le radici e i capelli qui sotto, che erano un po' più verdini. Ora sono un po' più blu. Perché qui sotto, non so per quale motivo, ma erano più arancioni degli altri, nonostante sia il punto da cui sono partita, sia con il rimuovi colore che con la deco. Comunque, questo è il colore. Poi ve lo mostro meglio, perché ora, con un incredibile effetto speciale schiocco di dita, io mi piastrerò i capelli, mi preparerò e mi porterò anche alla luce del sole per vederli meglio. Quindi, andiamo. Eccomi qui. Completa. Ho messo anche questa giacca, perché c'è del blu e del verde. Secondo me mi sta un sacco bene. E mi sono truccata semplicissima di marrone. E niente, penso che verrò presa per fare la fata turchina in Pinocchio. Forse voglio portarvi fuori al sole, però devo mettermi le shabatane. E niente, ora sono tipo in tinta con tutti gli angoli della mia stanza. Lì c'è il blu, anche lì c'è un po' di blu. Anche qui. E nulla, ora proviamo ad uscire. Ok, sono al sole. Scusate lo sfondo dei panni stesi, ma mia nonna ha deciso che oggi era tempo di stendere. Dunque, questi sono i capelli al sole. E io li amo letteralmente. Magari faccio qui. Non lo so bene come sono dietro. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace questo colore su di me. Io vi mando un bacio. E noi ci vediamo nel prossimo Vlogmas. Ciao!